Buonasera, ben arrivati all'ultima puntata che ho posto per te, grazie, grazie mille, lui si chiama Gisette, lei si chiama Cosima, sono fidanzati, faccio rientrare la signora Cosima. Buonasera, buonasera, ciao Maria, perdonami Maria, Cosimaina comunque, non Cosima, come se te ti chiamo Maraglia, Cosimaina. Per un anno sono stati separati e per un anno lei ha avuto una relazione con un altro uomo. No, 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 no Maria, perdonami, erano quattro uomini. Diciamo che con Giuseppe siamo stati insieme cinque mesi e niente, poi c'è stata quell'esperienza di Temptation Arena e niente, è successo un crack. Solamente che a me mi manca, sono qui per riprendermelo, perché mai, e voglio fargli una sorpresa con il suo gruppo musicale preferito. Vediamo la questione della posta. Maria, siamo arrivati a Brimisi, adesso andiamo a cercare Giuseppe. Ciao Maria, dovremmo essere arrivati da Giuseppe, vediamo un po' se è in casa. Chi è? C'è il signor Giuseppe? Si, sono io. C'è posto per te. Apro? Si. Andiamo un po'. Ciao, buongiorno. Ciao. Come è male? Ma dove vuoi? Come è male? Vieni, appena arrivare a te Filippo, vieni. Papà, scappa, scappa. Scappa, papà, scappa. C'è scappa, Lucazzo? Allora, Giuseppe, devo farti una domanda, perché è abbastanza insolito, oggi fa tanto caldo, come mai questo cappello di lana? È a novembre, siamo a novembre, pure che fa caldo si usa, però siamo a E7 e poi. Quindi va di moda? Sì, è a sette. Per capire realmente, Giuseppe, se sei la persona che noi stiamo cercando, devo farti, come al solito, tre domande, ok? Sei tu Giuseppe? Sì, sì, mi chiamo Giuseppe, sì. Vesti è a sette? Sì, solo. E un'ultima domanda, quando ti incalzi fai... Sì, 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 sì. Allora sei tu, è lui, è lui, Maria, l'abbiamo trovato, è Giuseppe, Giuseppe. Allora, Giuseppe. Quindi, Giuseppe, come si dice in questi casi, c'è posta per? Me. No. Italia 1. No, Giuseppe. Annaggia, no, che c'ho un Mediaset Premium mio, quello da 10 euro al mese, su Aliexpress, c'ho la carta con un prestanome e faccio seguito. Vedi tutto, i Mediaset, i ski, vedi tutto. Vabbè, taglia, taglia, Giuseppe, dai, allora, quindi, diciamolo un'altra volta, c'è posta per? Te. Che petto ti ha fatto vederlo? È brutto, come la prima volta che l'ho visto. Io adesso vado a vedere se c'è. È bello l'amore mai. Giuseppe ha accettato l'invito. Sì, Maria, Giuseppe ha accettato l'invito, ed è qui con noi. Buonasera. Sei un po' teso? Mi sono permesso di vestirmi un attimino elegante, Maria, perché, sa, la Mediaset non è che vai tutti i giorni, quindi ho voluto fare una cosa carina. Adesso, tra poco, vediamo chi ti manda a chiamare. Ok. Proviamo la busta. La conosco, sì. Così, maina, mai. Così, maina, ex, mai. Posso farla parlare? Eh sì, perché certo si può parlare. Sono venuto con Babacar, quello delle macchine, l'applicazione. Tant'è che ve l'ho fatto. Benissimo, ma... Prego. Ciao, Giuseppe Mai. Lo so che te ne ho fatte di tutti i colori. Eh no, eh no, eh no. Maria, io non so se te l'ha detto, ma se ne è fatte di tutti i colori. Eh no, tutti i colori. Amore mai. Ex mai. Luneru. Lucinesi. Una decina, Maria. Maria, Maria Mai. Te lo garantai. Sì, però comunque non ha importanza, Giuseppe Mai, perché io sono venuto con te e ti voglio portare a casa con Mai. Maria, sì. Lo so che dopo Tenteciata è successo il crack. Lo so. Eh, Così, maina, a prescindere dal cracker, perché si era già rotto qualcosa prima. Maria, si era rotto qualcosa prima già. Perché non ti scordare che io ero il tuo sette e tu eri il mio EA e insieme facevamo EA sette. Non te lo scordare, Cosmaina. Vabbè, comunque a prescindere da tutto ti volevo fare una sorpresa. Vai, Maria. Questa sera non ti dico no. Questa sera non ti dico no. Non so. Lo sto capendo, non ho capito. Lo sto capendo, non ho intento. Yeah, but you don't realize, girl, love is a liar. Giuseppe, stoppa un attimo, stoppa. Ma ci son tu? Maria, chi sono? Non li conosco. Com'è chi sono? Maria, il Bundabash è il tuo gruppo preferito. E io spero tu capisca le parole di questa canzone, perché sono dette col cuore. Capisci le parole? Quali parole? Se le canzoni erano inglesi? Se da parte dell'italiano non ci stavano tra queste canzoni. Poi Maria, io questi non li conosco. Io non li conosco questi. Li Bim Bum Bam, qua. Non lo so chi sono. Poi lo sa che a me mi piacciono le canzoni napoletane. Più c'è che mi sa facci sta cosa qua. A me mi piacciono le canzoni napoletane. Canzoni napoletane, li sapete? Che la serie ha cominciato a strada longa La paura che non sai si può fare Non la di tanto, non ti legge o niente Non t'altro bene, nascose dal cielo Sono bravi. Non devo avere il canzoni napoletane, portando Per fare un regalo che aspetta papà Oh, cazzo. Scusa, sono italiani cantano italiani, no? Eh, canto in inglese. Li Bum Dabasce. No, no, Maria. Li Bum Dabasce. Sono italiani. Eh, li Bum Babà. Li Bum Babà. Babà, Napoli. Un babà. Hai visto? Amore, mamma. Maria. Senta a me, fai una cosa. Chiudo la busta. Chiudo la busta. Ma non l'hai racchiuto, di chiudo la busta? Perché è chiuso? Che cazzo di programma. Ma non l'hai racchiuto. Ma non l'hai racchiuto.